E non siamo più amiche! Cameriere! Cos'è stato? Guarda, merendine! Cosa c'è sul menù? Partecipare alla sfida? Che significa? Le sfide sono divertenti! Giochiamo! Fammi una foto! Cosa sta volando? È una lettera di Hogwarts? No, è il nostro compito! Scrivi un testo su una tastiera. Chi prende cosa? Emily potrà usare solo una mano. È facile digitare con una sola mano. Caroline, stai bene? Poverina! Un nuovo compito! Cosa c'è lì? Bere acqua da una bottiglia. Questo round sarà mio! Guarda, Emily! Devi farlo senza mani! Caroline la stappa con il piede. Wow, bel calcio! Ben fatto, Caroline! Bere senza mani è facile facile. Ora non ho più sete. Grazie! Che posto strano! Oh, ecco il nuovo compito! Caroline, giochiamo a ping pong! Vediamo chi non userà le mani. Ah, Emily! Di nuovo tu! Caroline serve con una mano sola. Ed Emily cerca di colpire con la testa. Deve essere scomodo. Oh, bella visiera, Emily! Ai! Potresti fare attenzione alla mia faccia? Sì! Emily serve! Colpo di testa! Basta, mi arrendo! Il nostro nuovo compito è mangiare la pasta. Caroline ha di nuovo una mano sola. Va bene, posso mangiare la pasta senza mani. Ehi, Emily! Dove stai andando? Uh, penso di averne presa troppa. Scusami! Buon appetito! Dove sei stata? Meglio non chiedere. Cosa? Oh, ciao papaya! Chi può mangiare una papaya più velocemente? Emily è bravissima a rimuovere i semi con una mano sola. Ma Caroline ha un asso nella manica. Ehi, smettila di sputare! Oh, guarda questa insolita cover! Wow! Qual è il nuovo compito? Vediamo! Ordinare le caramelle in base ai colori. Non posso usare le mani. Buona fortuna, Caroline! Caroline usa il naso. Oh no! Emily è più veloce! Le caramelle si sono ordinate da sole! Che fortuna! Dov'è il prossimo compito? Eccolo! Evviva gelato! Caroline mangia senza mani questa volta. Oh, è gelido! Aiuto! Mi dispiace di averti congelato l'unica mano. Lascia che ti dia da mangiare. Ehi, guarda Emily! Ecco un nuovo compito! Oh, un pollo! Ciao, polletto! Evviva! Ho una mano sola! Il mio pollo! Abbiamo dimenticato il ketchup! Ora possiamo mangiarlo! Oh, cosa c'è in questa scatola? Vediamo! Un compito segreto! E nient'altro! Fammi dare un'occhiata! Oh, guarda! Una maglietta! Cosa? Ma come hai fatto? C'è qualcos'altro? Una piastra? Penso che dobbiamo farci i capelli a vicenda! Dammi la piastra! No, inizio io! Tieni i capelli, Caroline! Fare la parrucchiera con una mano sola è così scomodo! Ups! Ora tocca a te, Caroline! Che c'è qui? È solo un nuovo compito! La ceretta! Non è così spaventosa! Sì! Non è molto comodo fare la ceretta con i denti! Ma chi ha detto che devi torturare il tuo braccio? Ho fatto la ceretta senza mani! Proprio come ha detto il compito! Ho la gomma! Oh, c'è un nuovo compito qui! Sembra che dobbiamo metterci il rossetto! Oh no! Poverina! Senza braccia! Non puoi usare le mani? Beh, usa i piedi! Che schifo! Beh, il mio rossetto è a posto! È perfetto! Oh, un nuovo compito su ruote! Ma che significa? Metti le lenti a contatto! Di chi è il turno di non usare le mani? Emily, di nuovo tu! Mettere le lenti con una mano non è un grosso problema! Ma la tua lingua è troppo corta per raggiungere l'occhio! Caroline ce l'ha fatta! Ma Emily cerca di metterla col piede! Aspetta un secondo! Dopo alcune idee creative... Oh, mancata! Il nostro nuovo compito è giocare a Jenga! Adoro questo gioco! Andiamo, Caroline! La mia mano è salva! Va bene così! Posso vincere anche senza mani! Sono una campionessa di Jenga! Mi serve solo l'angolo giusto! Ecco qui! E mi muoverò più velocemente! Ok, tocca a me! Il mio naso è in gioco! E vince! Fatto! Anch'io ho fatto centro! È il tuo turno! Aspetta! Oh, questo pezzo sembra debole! Guarda e impara, Caroline! Oh no! C'ero così vicina! Qualcosa si è bloccato nella cannuccia! È un nuovo compito! Che significa? Oh, guarda! Dobbiamo togliere la tovaglia e non far cadere la piramide! È il tuo turno senza mani! Misuriamo la proporzione perfetta! L'angolo giusto! Che ne pensi, amica? Ah, giusto! Andiamo! Sì, sì, sì! No, 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 no! È il mio turno! Cosa ho fatto di sbagliato? Dai, Denti! Non deludetemi! Ehi! Qualcosa è bloccato! Scusa! Emily! Hai rovinato tutto! Oh, un nuovo compito! Lavarci i denti! Chi userà una mano? Sì, facile! Come mangiarsi una torta! Non così in fretta! Tu sei destrorsa! Quindi usa la mano sinistra! Ups! Ma non mi ascolta! È così strano! Posso fare molto meglio! Il mio doppio spazzolino è pronto! Devo solo spremere il dentifricio! E mi sto lavando i denti senza usare le mani! Geniale! Allora, dov'è il prossimo compito? È qui? Penso che il puntatore ce lo dirà! Cos'è? Vere amiche? Giusto! Siamo noi, Caroline! Non litighiamo più! Questo posto è davvero... Unico! Ti è piaciuta la nostra sfida? Scrivi qui sotto quali compiti ti piacerebbe completare con una sola mano o senza mani! E ragazzi, iscrivetevi al canale! Mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo video esilarante di Woohoo!